urbani tartufi sbarca a fico siamo estremamente felici di annunciare la nostra presenza in questo grande mondo del divertimento del cibo che vedrà delle cose incredibili nel nostro spazio dove avremo di tutto ci sarà una tartufaia immensa un vero piccolo angolo dell'umbria trasportato a bologna dove i visitatori potranno andare a caccia di tartufi con i veri calatori che porteremo noi dalla nostra terra dalla terra del terremoto dalla terra della valnerina per permettere a tutti di provare questa grande emozione di andare con i cani che riusciranno a trovare i tartufi sottoterra e una volta trovati questi tartufi potranno mangiarli nel ristorante urbani tartufi sempre vicino dove ci sarà un modo di mangiare il tartufo nuovo molto giovane molto veloce anche perché nessuno ha più tanta voglia di stare tante ore seduto a tavola un ristorante particolare che contiene anche un angolo del museo del tartufo urbani dove si racconta tutta la storia del tartufo fin dal 1700 come veniva impiegato e come la famiglia urbani lo ha reso famoso nel mondo oltre a questo si potranno ovviamente acquistare dei prodotti da portare via quindi storia cultura cultura gastronomica molto importante gli ospiti potranno anche interagire con i nostri chef quindi è una formula di ristorazione completamente nuova e poi una chicca veramente qualcosa di sorprendente ci sarà un altro spazio dedicato sempre al tartufo dove verrà presentato uno dei progetti agricoli più sconvolgenti dei nostri tempi truffle land truffle land è un nuovo modo di fare agricoltura agricoltura redditizia finalmente un ettaro di terra che prima non vi rendeva niente se voi ci pianterete delle piantine micorizzate al tartufo a partire dal sesto anno quell'ettaro di terra che non rendeva niente può rendere dai 7.000 euro se va proprio male fino ad arrivare a 40.000 euro o anche più perché si potrebbero trovare fino a 100 chili di tartufi truffle land è un'azienda nuova nasce adesso è un'azienda di ragazzi giovani che parlano ai giovani e che chiedono ai giovani del futuro di investire nella tartuficoltura perché la tartuficoltura è l'unica forma di agricoltura concreta che dà dei grandi profitti noi ci crediamo molto ed è per questo che fico ci ha dato uno spazio dove potremo veicolare questo nuovo concetto che non è soltanto indirizzato dal mercato italiano ma indirizzato al mondo ossia i nostri tecnici si potranno recare in tutte quelle zone anche abbandonate o anche zone di privati che vorranno investire in questa nuova cultura rivoluzionaria perché veramente ci crediamo moltissimo e sarà la nuova era dell'agricoltura del tartufo agricoltura redditizia nel mondo nonostro 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 nonostro